E' tempo di reagire per la Red October Cantu, la squadra di coach Evgeny Paschutin, reduce da tre sconfitte consecutive, domani, domenica 25 novembre, sarà impegnata al Palarubini di Trieste per il launch match dell'ottava giornata di campionato. Bianco-Blu in campo alle 12 contro l'Alma. I canturini si sono mostrati agguerriti nell'ultima partita contro Pesaro, nonostante le pesanti bicissitudini degli ultimi giorni che hanno riguardato la società. Il patron Gerasiminco ha annunciato di non essere più in grado di portare avanti il club e di cedere gratuitamente le quote. Intanto il coach resta concentrato sulla prossima sfida. Dobbiamo giocare in maniera intelligente, so che per noi non sarà una partita facile in questo momento, ma i ragazzi sono concentrati. Andremo lì per fare il nostro massimo per vincere la partita, spiega coach Paschutin. Controlliamo i rimbalzi e giochiamo in maniera intelligente, senza concedere, tiri aperti agli avversari e senza farli correre. Controlliamo il ritmo della gara. Controlliamo i rimbalzi e giochiamo in maniera intelligente.